Fredi, noi da tifosi siamo contenti per la vittoria, tu da tecnico forse non troppo della prestazione? No, assolutamente no. Vincere fa sempre bene, però i ragazzi dovranno capire che non abbiamo fatto una bella partita. Troppo contratti, troppi errori, troppo lenti in difesa. Abbiamo tentato qualcosa di fare in contropiede, però abbiamo sbagliato tantissimo. Dovano rendersi conto che devono essere un po' più sciolti e giocare più con la testa. È vero che ci mancavano alcuni giocatori importanti, ma nonostante questo tutti quanti fanno parte del gruppo e devono rendersi conto che può succedere in questo momento, devono essere loro quelli a decidere, quindi dobbiamo lavorare anche su questo. Domani un'altra occasione, un'occasione buona per rifarsi? Sì, assolutamente. Inizieremo la partita, la guarderemo. Sappiamo già più o meno quali sono stati gli errori e cerchiamo domani veramente di fare meglio.